ciao a tutti in questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa fascia è un progetto facilissimo e molto veloce quindi alla portata di tutti io l'ho realizzata con l'uncinetto e con un filato adatto apposta per costumi perché l'ho creata apposta per mia figlia ginevra per il mare però in realtà è possibile realizzarla con qualsiasi filato a voi piaccia di più come vedete ho creato una serie di fiorellini uno vicino all'altro che creano questo motivo che però in realtà poi visto nell'insieme non è così evidente che siano dei fiori diciamo che visto che il progetto è facilissimo e voi la potete realizzare in qualsiasi misura seguendo il tutorial non ho particolari video tecniche da mostrarvi durante il video basta seguire bene il tutorial e vedrete che in un attimo l'avrete realizzata anche voi ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla per iniziare abbiamo bisogno del filato io ho scelto lo splash di tessiland è un filato 100% poliammide in 50 grammi ci sono circa 175 metri e ha delle caratteristiche particolari alla resistenza all'acqua di mare un'asciugatura rapida non sbialisce con la luce del sole e resistente ai lavaggi infatti loro l'hanno creato apposta per i costumi da mare qui consigliano il l'uncinetto che va dal 3 al 3 mezzo io utilizzerò un uncinetto numero 3 inoltre avremo bisogno di un elastico per capelli se possibile nello stesso colore del filato un metro da sarta e un ago da maglia ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni per prima cosa dobbiamo andare a prendere la misura della circonferenza della testa nel caso di gini sono 55 centimetri a questo numero dobbiamo togliere la misura dell'elastico tirato al massimo che per me sono 14 centimetri quindi farò 55 meno 14 e mi dà 41 centimetri a questo punto posso avviare una catenella lunga 41 centimetri quando inizio ad avviare le catenelle le conto perché il numero totale deve essere anche un multiplo di 4 più 2 io ho fatto 82 catenelle quando lo dovete misurare visto che in questo filato è molto elastico tiratelo leggermente altrimenti vi verrà la fascia troppo grande a questo punto contiamo 6 catenelle dall'ultima catenella che abbiamo sull'uncinetto quindi 1 2 3 4 5 6 e nella sesta facciamo una maglia alta poi proseguiamo facendo 2 catenelle e una maglia alta sempre nella stessa maglia di base e ancora una volta 2 catenelle e una maglia alta sempre nella stessa maglia di base adesso continuiamo saltando 3 catenelle 1 2 3 e nella quarta facciamo una maglia alta 2 catenelle 2 catenelle 2 e una maglia alta sempre nella stessa catenella di base e poi ripetiamo saltiamo 3 catenelle 1 2 3 nella quarta entriamo e facciamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta sempre nella stessa maglia di base e andiamo avanti così fino alla fine della nostra catenella sono arrivata alla fine e quindi faccio l'ultima sequenza salto 3 catenelle e nella quarta 1 maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta e poi proseguo facendo 2 catenelle e 1 maglia alta sempre nella stessa maglia di base per quattro volte quindi 1 2 3 3 e 4 arrivati a questo punto si torna indietro come abbiamo fatto prima solo che questa volta è più semplice perché basterà rientrare nelle maglie dove abbiamo fatto le maglie alte nell'andata sempre chiaramente sempre chiaramente a 3 maglie di distanza ma questa volta praticamente è inutile contare 1 2 3 e nel quarto fare maglia alta 2 catenelle maglia alta perché lo vediamo già dal giro precedente quindi è inutile contare ma si va già direttamente dentro ed è più semplice quindi maglia alta 2 catenelle maglia alta e poi ancora maglia alta 2 catenelle maglia alta e vado avanti così fino alla fine arrivati fino in fondo finiamo con fare una maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta all'inizio da dove è iniziato tutto nell'ultimo cerchiettino nell'ultimo spazio che vediamo che in realtà è la catenella allargata quindi entriamo una maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta 2 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella dall'inizio quindi 123 dentro e una maglia bassissima e così abbiamo finito il giro nel secondo giro ci alziamo con una catenella e poi nel primo spazio facciamo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e andiamo a inserire l'elastico quindi prendiamo l'elastico io faccio così lo metto da questa parte e lo inseriamo e poi sempre nello stesso spazio blocchiamo l'elastico con una maglia bassa poi continuiamo negli altri spazi facendo sempre una maglia bassa 1 2 3 catenelle 1 maglia bassa e ancora una maglia bassa 3 catenelle e una maglia bassa sempre nello spazio e quando arriviamo ad aver passato la parte rotonda vedete arriviamo alle nostre v ecco che dobbiamo andare a lavorare solo negli spazi 3 catenelli formati formati dalle 2 catenelle del giro precedente quindi qui qui ecco non nelle v in queste non negli altri spazi che sono delle v rovesciate quelli li dobbiamo saltare quindi nelle v entriamo lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle e scusate e una maglia bassa e andiamo avanti così fino alla fine sono arrivata fino in fondo adesso mi mancano solo quelle maglie qui circolari dove devo lavorare in tutti gli spazi però nel primo e nel secondo lavoro normalmente maglia bassa 3 catenelle maglia bassa nel terzo vi faccio vedere come si inserisce l'elastico quindi normalmente abbiamo detto maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa nel primo maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa nel secondo nel terzo maglia bassa 1 2 3 catenelle e inserisco l'elastico in questa maniera quindi vado a fare poi l'ultima maglia bassa per vedete bloccarlo e poi proseguo maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa maglia bassa e poi proseguo come vi ho fatto vedere prima cioè andando solo negli spazi formati da maglia bassa 2 catenelle maglia bassa e vado fino in fondo dall'altra parte ok sono arrivata alla fine anche da questa parte mi mancano proprio gli ultimi spazi dove lavoro semplicemente in tutti gli spazi maglia bassa 1 2 3 maglie 3 catenelle scusate maglia bassa maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia bassa e poi mi vado a ricongiungere vedete alla fine facendo una maglia bassissima sulla prima maglia che abbiamo lavorato inizialmente adesso taglio il filo nascondo le codine e poi vi faccio vedere come è venuta bene la fascia è finita come avete visto realizzarla è stato veramente molto molto semplice se all'inizio vi può sembrare una circonferenza un po troppo piccolina provate a tirarla perché in realtà è molto elastica quindi non vorrei ecco che magari vi fate degli scrupoli pensando che sia troppo piccola però una volta che indossata ecco che è della circonferenza giusta della grandezza giusta per una testa nel mio caso di 55 cm per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao